Abbiamo parlato di miracoli, di grandi imprese. Non si può negare che se c'è una squadra che quest'anno ha fatto una grande impresa, soprattutto di tenuta di nervi, oltre che di bel gioco, in moltissime partite, è stato il Bologna di Malesani. Malesani, io la volevo salutare, la volevamo salutare qui in una giornata in cui invece il Bologna, per voce anche di Abate e di altri interpreti del Milan, meritava quantomeno il pareggio. Poi entreremo nelle dinamiche della partita, però la cosa curiosa è che questo è un allenatore che ancora non sta discutendo del futuro, nel senso che dopo tutto quello che è successo in una squadra che avrebbe oggi 43 punti se non fosse stata penalizzata di tre, una società in cui è successo di tutto, Malesani è ancora lì in bilico. Mi dica che non è vero. Grazie Ilaria, perché ogni tanto anche un allenatore ha bisogno di sostegno. Non è gratis, voglio dire, è tutto meritato. Che ho fatto oggi? Mario l'ho letto. No, ma hai scritto bene, il Bologna non si ritrova più, avevi detto, ed avevi ragione. No, no, ti stavo dicendo che avevi ragione. Però devi capire, come ha detto bene Ilaria, cosa noi abbiamo, che periodo abbiamo attraversato, abbiamo superato tutto. Ci mancava solo una crisi di risultati. Oggi, con la prestazione di oggi, io credo che siamo la fine anche di questa crisi. Ecco, oggi la squadra, soprattutto nel secondo tempo, l'ho vista giocare come ha fatto fino a cinque domeniche fa, e questo mi inorgoglisce. Io ho degli eroi, veramente. Io sono... Io ho una cosa così, anche se qualcosina ho vinto nella mia vita, ma il giorno in cui si festeggerà la salvezza, e speriamo che arrivi presto, per me è il più grande risultato della mia carriera. Però ha girato la domanda di Ilaria. Perché non è ancora sicuro al 100% che Malesani alleni il Bologna nella prossima stagione? Aggiungo anche quello che ha detto il Presidente nel pre-partita. Se ha delle offerte, chiedetelo a Malesani. Quindi due domande in una. Perché non siamo ancora sicuri e quali sono le offerte? No, guarda, adesso siamo a un punto importante. Si sono susseguiti quattro, cinque presidenti, ed ogni volta, tu sai benissimo, che è determinante entrare in sintonia, essere sulla stessa lunghezza d'onda. Con questa nuova dirigenza, Presidente e Vicepresidente, dico la verità, come sempre, non ci siamo capiti subito, ma adesso invece siamo molto in sintonia. Mi ha fatto piacere il colloquio che ho avuto venerdì con il Presidente, che mi ha dato forza. Ci siamo stretti la mano, abbiamo detto adesso noi dobbiamo salvarci, andiamo insieme perché c'era chi anche mi voleva togliere questa soddisfazione, perché comunque gli ho detto, Presidente, anche se l'allena lei, Bologna vedrà che si salva da qui in poi. Quello le ho posto assicurare. Però qualcuno voleva togliermi anche questa soddisfazione, invece io ho apprezzato molto che il Presidente non me la voglia togliere. Ma questo è follia però, scusate. Ma qualcuno chi? Ma qualcuno chi? Qualcuno però? Quelli che scrivono, quelli che continuano a Bologna a dire che io sono pronte le valigie ogni giorno, scrivono cose insensate secondo me, però io le accetto perché ho i capelli bianchi, le accetto, capisci? Bologna è così, è strana. Io ero un fenomeno, adesso sono diventato un asino. Ma non per la società? Non per qualcuno all'interno della società? Assolutamente. Infatti a me interessa quello che pensa la società, quel Presidente ci siamo stretti la mano venerdì e non a caso, nel momento in cui tu entri in sintonia, subito dopo guarda caso che prestazione che fa il Bologna. Quindi è significativo, non solo nel caso del Bologna, ma in tutte le squadre, se c'è grande sintonia, io adesso mi sento proprio come prima, proprio la fiducia piena e credete che non è poco questo. Però purtroppo un anno così abbiamo dovuto passare anche attraverso questi passaggi, che vuol dire ci rimaneva la crisi di risultati e l'annatore in discussione, che c'è sempre nel calcio. Quindi c'è stato perfino, mi ricordo, per Allegri, che se non vinceva quel derby era già in discussione anche lui, avete visto? Adesso invece tutto lo stadio lo osannava. quindi è un mondo... La dura vita dell'allenatore. Malesani, le chiedo di fare una battuta soltanto su quello che è successo in campo, perché sia il presidente Guaraldi e i nostri microfoni, sia Portanova, hanno detto che, insomma, sull'arbitraggio di De Marco, oggi, nella partita con il Milan, c'è stato qualcosa di non comprensibile, soprattutto l'esclusione di Della Rocca. Il problema che ho dovuto calmare un po' tutti, perché c'era nervosismo, perché noi che venivamo da tante sconfitte. No, io rispondo velocemente a questa cosa. La data Nesta è la risposta più giusta. Nesta, che oltre ad essere un grandissimo giocatore, ha dimostrato di essere un grande uomo, quando ha cercato di dissuadere Di Marco di non espellere Della Rocca, che non era fallo da espulsione, detto anche da lui. Allora, De Marco, invece, ha voluto andare per la sua strada. E questo la dice lunga, insomma. Ma che credo ha fatto? Credo che abbia sbagliato a espellere uno del Bologna. La partita era bellissima, poteva riservare grandi sorprese, perché noi eravamo in palla in quel momento lì. Ma io credo che questo, in un campionato inglese, non lo fischiano neanche il fallo. Questo fallo, cioè, e qua, va fuori addirittura, è strana sta cosa qua. Probabilmente oggi è una giornata storta di De Marco, ci sta, è un buon arbitro, oggi ha avuto una giornata storta. Nel momento del suo vice in panchina, il Milan per vincere lo Scudetto non ha bisogno di questo, per far cronaca. No, adesso non è che bisogna, sai, bisogna contestualizzare anche quello che si dice. Nel momento si può dire di tutto di più. e poi, se può dire di più. È un buon arbitro, è un buon arbitro, è un buon arbitro, è un buon arbitro, è un buon arbitro. Grazie a tutti.